No grappa, no Christmas! Ta-da! La grappa di Babbo Natale porta gioia, musica e felicità! Lorenzo da Ponte divenne il grande maestro Clement Clarke Murdoch, che lo ispirò a scrivere la magnifica storia chiamata The Night Before Christmas, la notte prima di Natale. No grappa, no Christmas! Viva la grappa di Babbo Natale! Lorenzo da Ponte fu il genio del Settecento, pensate, egli scrisse le più grandi opere per Amadeus, molto. Viva la grappa di Babbo Natale! Viva la grappa di Babbo Natale! Sarà più bello! Tu a Natale con la grappa di Babbo Natale! La grappa ha distillato straordinario perché è l'anima dell'uva e quindi questo distillato cos'ha di più magico se non nelle dolcissime braccia di questa dolcissima nipotina di Babbo Natale. A Natale ricordati di regalare la grappa di Babbo Natale! Grazie! 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 Grazie!